Selvaggia Lucarelli, durante la scorsa puntata di Ballando con le stelle, ha avuto uno scontro molto acceso con Caroline Smith a proposito dell'esibizione di Luisella Costamagna. Le due giurate sono sembrate in disaccordo su diversi aspetti, ma in particolare sullo sforzo della Costamagna di continuare ad esibirsi con il tutore, a causa di un infortunio alla caviglia. Trovo scorretto che venga trattata meglio degli altri, ha tuonato Selvaggia Lucarelli. Caroline Smith, ha le parole di Selvaggia, e sbottata, dicendole di farsi una cultura sul musical, alludendo alla coreografia eseguita dalla Costamagna, ispirata ad All Death Jets. La Lucarelli non ha sorbolato sulla provocazione, spiegando, sì, la trattate meglio perché questo suo impedimento chiaramente eroicizza la sua figura perché lei, nonostante tutto, è qui e balla e non ci rende obiettivi. In pratica, Selvaggia Lucarelli ha speso delle parole molto dure nei confronti della concorrente, parere fermamente contrastato da Caroline Smith. Questo è un bellissimo ballo individuale, ma questa è una gara e tu stai giocando un'altra partita in cui tutti sono più buoni con te perché, poverina, balla con il tutore. Ha continuato Selvaggia Lucarelli, per poi concludere, ed è così, ragazzi, fine, è la verità. A questo punto, è intervenuta la Smith, dicendo, ma tu che parli così hai mai visto il film, All Death Jets? Da questo momento in poi, lo scontro tra le due giurate si è inasprito sempre più, diventando un frenetico botta e risposta. Selvaggia Lucarelli puona contro Caroline Smith, tu e l'educazione siete proprio due mondi diversi, Selvaggia Lucarelli è sbottata nei confronti di Caroline Smith, dicendo, tu e l'educazione siete proprio due mondi diversi. Il dialogo tra le due donne ha assunto toni molto accesi, mostrando due posizioni diametralmente opposte. La Smith ha incalzato Selvaggia, tentando di difendere Luisella Costamagna, allora Bob fosse, uno dei più grandi coreografi, lasciami parlare Selvaggia. Allora, secondo il tuo discorso, Bob fosse non ha capito nulla. Eppure ha fatto i più grandi spettacoli. Vatti a vedere Chicago e All Death Jets. Ascolta. Io ho avuto l'educazione di lasciarti parlare e quindi lascia parlare anche me, grazie. Ho qualche esperienza in più di te. Faccio ballando dal 2007, ha concluso, a dirata, Caroline Smith. A questo punto Selvaggia Lucarelli, sentendosi punzecchiare, ha risposto, tu educazione con me non ne hai mai avuta da quando abbiamo iniziato ballando. Quindi stai buona, stai buona, stai buona. Nel frattempo, la gara è stata vinta da Rosanna Banfi e Simone Casula che, grazie al tesoretto ricevuto da Rossella Erra, sono saliti al primo posto della classifica di ballando, guadagnando 25 punti, ossia metà tesoretto che ammonta a 50 punti. La metà del punteggio è andata proprio a Luisella Costamagna che si è esibita con Pasquale Larocca. Ciò non è andato giù a Selvaggia Lucarelli che ha redarguito la Smith, dicendo, oddio, ora ricomincia con l'esperienza più di me. Insomma, le due giurate non sono arrivate ad un punto d'incontro nemmeno in conclusione della gara. Leggi anche, Barbara D'Urso sorprende il pubblico di Pomeriggio 5, non è mai successo prima, ma, ha ignorato Romina Power. Ecco perché.